Ok, quindi benvenuti, quindi stasera andiamo un attimo nel quello che potrebbe essere il clou della parte centrale del corso di animazione che stiamo facendo. Abbiamo visto in questo corso di Blender 2.8 come fare delle animazioni molto elementari facendo delle armature, facendo delle keyframe. Eh, aspettate, devo mutarvi, mi sa. Ok, andiamo. Ok, a me mi sentite ancora? Sì. Ok, allora vi ho mutati perché sennò diventava un pochino complicato. Allora, abbiamo visto, diciamo, le animazioni fatte con i keyframe. I keyframe vi ho dato ultimamente, sono riuscito a rispolverare un po' Google Classroom e vi ho dato anche dei compiti. Questi compiti sono abbastanza laschi, quindi anche se non li fate subito non è importante, c'è tutta l'estate per farlo. L'importante è però che questi compiti, anche fatti in maniera elementare, vi facciano capire come... In realtà la cosa più interessante è capire quanto sia complicata fare un'animazione, no? Cioè fare le animazioni, se seguite questi corsicini che abbiamo fatto, per quanto io riesco a semplificarli, in realtà sono una fatica mostruosa. Quindi quello che in effetti è molto interessante è accedere ad esempio a dei servizi che abbiano già questa animazione già fatta. È uno di questi servizi che vi voglio progettare stasera, si chiama Mixamo, ed è un servizio offerto da Adobe, quindi c'è un servizio che purtroppo non è aperto, vedete che c'è il simboletto di Adobe. Adobe vuol dire che per accedersi dovete farvi un account su Adobe, che purtroppo è un pochino brutto, però ha il vantaggio di avere una banca dati di animazioni, che non le ho contate, ma saranno diverse centinaia, e sono quindi interessanti perché invece di doversi inventare e creare dal nulla queste animazioni, si possono trovare normalmente qua. Ora, aspettate che cerco in qualche modo di entrare in questo. Allora, quando entrate in Mixamo, vedete che avete due icone in alto, che sono... questo era una cosa di Make Human che vediamo poi... Ah, la vedete? Ok, scusate. Ok, praticamente questo qui è un character che ho caricato, poi ve lo farò vedere meglio, ma prendiamo un... voi potete scegliere un personaggio, per esempio, usiamo questo personaggio fra i characters, vedete che questo personaggio praticamente è semplicemente un bambino, però volendo si può prendere anche... ci saranno fanciulle, vediamo... Rissa, o Erika Archer, vediamo un po' Erika Archer, ok, questa qui è una fanciulla con l'arco, che come vedete è già texturizzata, già tutta carina, ma la cosa fondamentale di Mixamo è che ci consente di aggiungere a un character, quindi a un personaggio, ci consente di mettere delle animazioni. Allora, le animazioni... la prima in assoluto che ci mostra è l'animazione in preghiera. Forse dobbiamo scegliere un personaggio senza archi in mano. Prendiamo Lola. Lola, vedete che questa qui è un'animazione un po' semplice, ma perché si muove poco, però ad esempio questo qui è un'animazione in cui il nostro personaggio si fa un salto. Quindi vedete che si può vedere il personaggio che fa il salto. Si possono cercare per nome, ad esempio ce n'è una, vediamo un po' Violin. Ecco, queste qui sono... suona il violino, suona il pianoforte, suona la chitarra. Vediamo un po'. Ecco, in questo caso si vede un personaggio che suona la chitarra. Voi direte, come hanno fatto a fare queste animazioni così perfette? Sicuramente hanno fatto dei mock-up, nel senso che hanno fatto delle registrazioni da persone vere. Quindi hanno preso delle persone vere che fanno certi movimenti e gli hanno attaccato probabilmente dei sensori e poi con queste tecniche, con dei computer che costeranno anche un'era di Dio, le hanno trasportate in un formato, diciamo, di un'animazione. Quindi non preoccupatevi, se voi non riuscite a fare con le tecniche che vi ho insegnato nelle settimane scorse un'animazione paragonabile a questo, non è che perché siete incapaci, ma perché semplicemente per farle bene bisogna proprio prenderle dal vero. Ci sono alcune tecniche che non vi ho insegnato che permettono di avvicinarsi abbastanza, tipo c'è la cinematica inversa che permettono di fare delle cose. È abbastanza interessante, però diciamo che questa è la base. Ora, visto che siamo qua sopra, volevo solo spiegarvi quali sono il significato. Ad esempio questo qui è lei che suona, ma il pianoforte. Ah, licenza d'uso, sai che quello non l'ho approfondito molto. Ma a noi in realtà più che altro, più che non sui caratteri, a noi ci interessano le animazioni, credo che sull'animazione ci sia forse una licenza un po' più permissiva. Comunque lo vedremo magari meglio e lo pubblichiamo. Qualcuno di voi, non so se la... Anzi, ma facciamo così, vediamo un po' se lo riusciamo a trovare qua. Mixamo, usage, license. Vediamo un po' se lo vediamo direttamente. Ah, allora sembra, questo è l'articolo di marzo 24, che essendo una preview, questa preview, ciò che viene offerto è gratis, senza tasse royalty fees, quindi senza pagare nessun import, senza nessuna licenza, per unlimited commercial or non commercial use. Quindi in realtà usabile un po' per tutti. Quindi in qualunque tipo di progetto creativo. e dice semplicemente che se Adobe mantiene i diritti sui suoi software e sui suoi contenuti e voi mantenete i diritti sui vostri progetti, le vostre creazioni. Quindi dice... Ok, cioè praticamente quello che dice è che sostanzialmente non si possono distribuire questi asset in vendita, vendendoli come se fossero degli strumenti propri. Cioè dovete ovviamente specificare. Quindi potete fare praticamente quello che volete, ma non potete fare lucro facciandoli per vostra. Quindi nel contesto educational dovrebbe andare bene. Sì, ma anche forse un po' commerciale, ma tanto a noi non interessa il commerciale, quindi direi che non lo approfondiamo. Ecco, l'unico dubbio di questa licenza, che ve lo dico per onestà, è che essendo una preview questa cosa qua, allora potrebbero in qualunque momento farla sparire e magari metterla, e magari metterla, metterla diciamo eventualmente a pagamento a partire da un certo momento in poi. Vediamo un po' cosa dice Adobe qua, che c'è appena lanciato. Anni? Dunque, sono soggetti a termine di licenza? Ok, e quali sono? Non potete vendere, alterare, modificare, licenziare, sottolicenziare, copiare, usare il materiale che non sia autorizzato. Vabbè, però abbiamo visto prima che non lo lasciavo fare. Ecco, vedi che può cancellare l'autorizzazione, a vedere, scaricare e stampare in ogni momento. Quindi purtroppo c'è questa cosa che può sparire da un momento all'altro. Però diciamo che a parte quello, sì, diciamo che io di solito preferisco delle cose un pochino più aperte, ad esempio Make Human è un pochino meglio, quello che andremo a vedere dopo. Però la cosa interessante di Mixamo è che vi fa vedere il... Vediamo un po' se riusciamo a riprenderlo... Che vi permette di avere un briciolo di gratificazione subito usando questi character, questi personaggi e queste animazioni, no? Che possiamo quindi riutilizzarli. Ecco, saluta cosa. Queste animazioni qua, vedete che sulla destra abbiamo un qualche cosa, nel senso che si può innanzitutto spaziare più o meno le braccia. Io comincio da questo, no? Nel senso che così, praticamente mettendo qua, vedete che le braccia sono... Ah, cioè in realtà l'ha messo dietro le spalle. Credo che le avvicini. Se mettiamo dall'altra parte, invece le braccia risultano molto più distanziate. Insomma, a seconda dell'animazione, questo, il character run of space, controlla la distanza fra le braccia. L'overdrive, da quello che ho capito, controlla la velocità di esecuzione. Quindi se lo metto verso il destra fa molto più in fretta e se lo metto qua a sinistra lo fa molto più lentamente. Non so se si vede. No? E queste altre cose qua sono tipiche solo di questa animazione. Quindi la stance credo che sia il modo in cui sta in piedi. Mettiamo un po' la velocità un po' umana. Ecco, quindi magari lo rende un po' più o meno evidente e pronunciato. In questo caso c'è la distanza della posizione della chitarra che si può mettere in altre posizioni. Comunque qui va tutto qui un po' più abbassato un po' più alto e poi c'è anche lo stile in questo caso che si può controllare. Comunque sono tutte cose che dovete nel caso verificare. Comunque qui ad esempio sul anche qua vedete che si tiene più o meno alte o basse le varie le varie cose. Ok. Allora, una volta che avete selezionato un personaggio di questi potete fare il download del personaggio e dell'animazione. e il download è possibile farlo in vari formati e i formati ormai ormai vi sono un pochino noti i formati quindi i formati di scaricamento sono film box scoperto da poco che fbx vuol dire film box per normale oppure specializzato per unity oppure collada e il collada potrebbe essere molto interessante se lo avete usato con blender ma anche con Godot perché Godot legge il formato collada. questi altri due campi qua non non mi è chiaro cosa fanno ma non non credo che siano interessanti per quello che facciamo. In realtà quello che noi useremo Mixamo lo vedremo non è tanto quello di scaricare i caratteri ma di poi andare a fare un workflow in cui noi creeremo dei personaggi con MakeHuman lì andremo a caricare su Mixamo e poi questo ce li riga nel senso rigare vuol dire che gli fa fare tutti i movimenti che noi desideriamo e poi a quel punto rifacciamo il download e otteniamo il formato che ci interessa e questo magari se ci riusciamo vedremo stasera come funziona. Al momento subixamo su quello che più o meno fa questo questo signore vediamo un po' 96 per page vediamo un po' di contare quante animazioni hanno ok quindi 96 e ci sono tanti perché sono 100 26 quindi sono 2600 sembra quindi stiamo parlando di 2600 circa animazioni mica poche avete domande su questa parte diciamo su un examo in senso stretto i personaggi di make human sono tipicamente infatti sì anni dice giustamente quello che potete fare è di volta in volta caricare un personaggio e poi scaricarlo non ne potete tenere una libreria quindi per ogni ogni volta che entrate lui si ricorda l'ultimo personaggio che avete usato e se ne mettete un altro si perde il personaggio vecchio però non è un grave problema perché tanto voi avete salvato ah tu dici non puoi fare delle sequenze di animazione però vedrete che con Blender comunque una volta scaricato un po' di personaggi potete poi potete poi comunque utilizzarle quindi il limite in realtà non è non è un grosso limite quindi mixamo direi che è molto molto interessante e oltretutto non necessita di scaricare nulla o di installare nulla ok quindi è comodo ora una volta visto mixamo andiamo a vedere il formato invece make human allora make human ecco e qui cominciano le cose un pochino più più difficile quindi make human intanzitutto make human è veramente free e open source e permette di creare dei personaggi umani e anche di applicarci di vestirli entro certi limiti e di aggiungersi delle animazioni però purtroppo non non è bravissimo cioè non cioè è un programma che ha relativamente poche animazioni ecco perché noi usiamo make human insieme a mixamo perché con mixamo abbiamo un sacco di animazioni magari non tutte quelle che vorremmo però comunque c'è diciamo abbastanza mentre invece su make human da solo non c'è quindi quando voi andate a scaricare make human la prima cosa che noterete è che c'è una versione 1.2.0 e poi c'è la versione 1.1 ora se voi state lavorando con mac macOS vedrete che la versione 1.2 non c'è ancora per mac probabilmente ci sarà fra qualche mese quindi dovrete accontentarvi nella versione 1.1 adesso io stasera vi farò vedere la versione 1.2 qual è la differenza più immediata fra le due versioni il problema è che la versione 1.1 è una versione che di base ha solo la possibilità di creare degli umanoidi diciamo ma non ha le librerie caricate di make human le librerie le vedremo tra poco sono molto interessanti perché hanno anche loro un po' come fosse una specie di mixamo hanno molti tipo cappelli tipo altre cose tipo vestiti eccetera che possono essere appoggiati ai personaggi però per installare questi plug-in bisogna fare un po' di mestieri che io adesso francamente stasera non faccio farvi vedere avevo fatto dei video qualche anno fa dove si mostrava un po' come si faceva ma fortunatamente nella versione 1.2.0 qual è il vantaggio della versione 1.2.0 è che questi plug-in vengono caricati d'ufficio quindi praticamente una volta che si scarica la 1.2.0 che poi cliccando si arriva praticamente in che tra l'altro è abbastanza grossino se non vado errato questo make human perché siamo sui 300 megabyte comunque il la la scaricamento ecco poi tra parentesi un'altra delle cose che loro dicono se vi scaricate la 1.2 è di e di fare attenzione alle known issues cioè ai problemi noti quindi i problemi noti in questo caso sono alcuni problemi sull'FBX l'export filmbox alcune schede grafiche possono cresciare dice manca la versione per macOS vabbè questi sono cretinate niente di che alcune cose insomma potrebbero non funzionare con cioè possono funzionare soltanto con la 2.79 diciamo che in linea di principio per fare poi animazione l'abbiamo visto noi abbiamo iniziato il corso con la 2.80 poi ho visto ultimamente facendo l'animazione che tante cose ad esempio quando si portano le cose su Sketchfab la 2.79 è ancora la migliore quindi funziona meglio quindi se volete ad esempio se volete uscire su Sketchfab con questa animazione con tutto quello che viene fatto occorre occorre usare la Blender 2.79 la Blender 2.80 probabilmente diventerà meglio la 2.79 ma si parla ancora di qualche mese io mi aspettavo che la Blender 2.80 uscisse dalla beta a luglio di quest'anno quindi adesso però mi sa tanto che ci impiegherà qualche mese in più nel frattempo quindi purtroppo saremmo obbligati ad andare avanti indietro for Blender 2.79 Blender 2.80 comunque una volta scaricato il il nostro Make Human quindi partiamo da entriamo proprio un po' se riusciamo a uscire e poi a rientrare quindi vediamo effettivamente Make Human che va ecco Make Human Community si chiama Make Human Community perché è la versione open source quindi si entra vedete che si vede questa cosa quindi carica tutti i plugin che sono già scaricati ecco e vi presenta un umanoide fatto così che adesso andremo un pochino a spiegare come ci si lavora in realtà tra le tante cose 1.2 mi ricordo più dove ce l'ha in una delle opzioni c'è la possibilità di scaricare tutto il non mi ricordo dove comunque c'è un pezzo in cui permette di scaricare tutta la libreria però per i fini che interessano a noi va bene anche solo vedere le cose basiche le cose basiche vuol dire prendere e provare a costruire una persona quindi le persone si costruiscono un po' come in Second Life nel senso che si va in in un po' e qui vedete che abbiamo una figura in cui dobbiamo scegliere se il nostro personaggio sarà tutto a destra diventa maschile e tutto a sinistra diventa tendenzialmente con i tratti somatici femminili e loro entrano per politically correct con una specie di corpo androgino quindi una cosa metà fra uomo e donna ma probabilmente voi vorrete una delle due poi chi usa My Human più di me mi può ovviamente aiutare o dire cose diverse l'altra cosa interessante l'età cioè si può avere una figura che possa avere in questo caso questo è un novantenne dice che c'è in realtà un novantenne che sta molto bene ma si può andare praticamente da un'età minima che è di un anno quindi si possono fare i bambinetti o le femminucce vediamo un po' così sarebbe tipo femminucce e si può magari andare avanti 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 si può creare praticamente le donne che ci interessano e il fatto che si blocchi la formata iniziale può dipendere dalla scheda grafica quindi quelle sono una delle cose che perché proprio essendo un alfa non supporta tutte le schede grafiche poi l'altra cosa che comunque sulla 1 a 1 ecco Annie Annie diceva che bisogna essere sicuri di aver aggiornato i driver sul firewall che sta dicendo adesso Annie non ho molta idea ma comunque se hai dei link o degli appunti possiamo per farli girare sul gruppo in modo tale da aiutare chi ha dei problemi però se per caso avete dei problemi tentate sulla 1 a 1 perché quella lì sicuramente è più tanto questa cosa qua che stiamo vedendo funziona anche sulla 1 a 1 poi si può mettere più muscoli o meno muscoli cioè si può farle più una persona che sia più meno esile o più meno corpulenta si può modificare l'altezza cioè le proporzioni anche queste quindi le varie proporzioni varie e poi ci sono queste tre barre che indicano praticamente più o meno la razza nel senso che se voi mettete una di queste barre completamente a destra le altre due barre andranno tutte a sinistra quindi questo vuol dire che sono i tratti somatici che ci si aspetterebbe di vedere in una donna africana e analogamente se siamo uomini ecco questo è l'uomo africano se portiamo tutto a destra asian vedete che va a sinistra africano quindi siamo completamente siamo un personaggio asiatico quindi con gli occhi con l'epicanto e così via e caucasian invece è la razza diciamo classica diciamo occidentale la nostra poi in realtà si possono mettere dei misti nel senso che si può mettere una cosa che abbia un po' più di asian oppure un po' più di africano insomma si possono fare delle variazioni abbastanza interessanti e poi da qualche parte qui adesso non lo trovo se mi aiutate a trovare c'è anche la possibilità di generare in maniera randomica il personaggio dove sia in questo momento non lo vedo ma dovrebbe esserci un pulsante che permette ah random perfetto quindi se voi fate random e poi fate randomize gli dite più o meno quanto random randomize e lui vi genera un personaggio tutte le volte con caratteristiche diverse tra l'altro una delle cose che ho visto della 1 o 2 che è in grado di produrre delle folle nel senso che c'è un'opzione da qualche parte che se non riuscirò sicuramente a trovarla che permette di produrre n personaggi e di esportarla quindi per produrre delle folle quindi personaggi che siano tutti diversi gli uni dagli altri quindi user random per questa cosa oltretutto quando poi andate allora questo qui è il main ma potete anche lavorare ad esempio se siete parte femminile praticamente si può controllare anche le dimensioni delle delle tette dice così e tutte altre cose sono attributi legati al genere quindi potete fare un po' di cose così potete lavorare specificatamente sulla faccia quindi cambiando tutta una serie di proporzioni globalità roundness insomma squadratura insomma ci sono un sacco di cose che se esplorarle tutte singolarmente non vale neanche la pena però è un livello di dettaglio molto 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 specifico una volta che avete specificato il vostro personaggio la cosa interessante che potreste desiderare di farlo è vestirlo e credo che anche nella versione base di Make Human ci siano alcuni abiti giusto? qualcuno mi conferma che l'ho visto ultimamente quindi in realtà non è necessario la 1 o 2 quindi gli abiti più più banali sono per esempio questo qui c'è female casual questo qui quindi vengono vestite e poi c'è anche la possibilità di controllare gli occhi e gli occhi si possono mettere low poly piuttosto che high poly i capelli ci sono un po' di vediamo soltanto i capelli femminili si possono mettere per esempio così e come vedete siamo già un livello che ha già possiamo mettergli anche da qualche parte c'erano anche il forse erano nelle geometrie credo che ci fossero da qualche parte anche le scarpe questa credo le scarpe cose quindi così abbiamo vestito il nostro personaggio sì pochi pochi invece la cosa interessante è che quando quando si si scarica la versione 1.2 oppure si scarica tutto il materiale le le librerie della versione 1.1 si ha accesso a una quantità un po' più alta di oggetti quindi a questo credo che ve lo potranno dire meglio diciamo chi l'ha usato e quindi Maria Luisa che Maria Luisa tra l'altro credo che abbia fatto già un po' di esperienza con Make Human credo che abbia fatto già anche tu hai fatto delle cose con Make Human quindi volendo si potrebbe fare anche una lezione un incontro diciamo nelle prossime settimane dove magari vi mettete voi a far vedere un personaggio c'è Susanna sicuramente ma Susanna ecco i manichini sono la parte diciamo leggermente più facile da fare perché basta prendere questa questa questo avatar e poi qui c'è la possibilità di animare un pochino nel senso si si mettono delle animazioni ma nelle pose si può scegliere praticamente delle pose tipo questa e quindi già qua si può fare però sono tutte pose diciamo fisse che però possono essere già utili per fare un bel po' di di scene no? perché queste cose si possono esportare in si possono mettere su open sim no? e come si fa a mettere su open sim semplicemente si esportano come vedremo fra poco in un formato in un formato compatibile se no se volete se volete poi soltanto animarle dopo con mixamo conviene mettere in una pose neutra la pose neutra può essere o questa però di solito spesso si usa la t-pose la t-shape che questa è la più adatta per essere animata o per essere messa poi su su open sim second life fin qui avete state più o meno seguendo tutti come funziona tutte le cosine che stiamo vedendo anzi probabilmente per alcuni di voi queste cose sono anche non dico ovvie ma insomma ci avete già ci avete già sbattuto parecchio ecco poi vabbè saltiamo un po' di cose perché a parte che molte non le so neanch'io ah sì questo per vederle sulle varie visioni questo per vederle dal basso quindi sono tutta una serie di dico di reset camera che lo fa rivedere questo per fare delle foto qui cosa fa simmetria ma tra virgolette ah background che si può mettere un'immagine di background ok ah poi ci sono espressioni che sono interessanti nel senso che se andate qua potete cambiare l'espressione della figura quindi ad esempio questa è un'espressione che piange questa qui è un'espressione annoiata questa qui è un'espressione determinata dubbiosa no questa mentre sta facendo uno sforzo paura quindi direi che c'è perfino di più di quello che normalmente c'è disponibile su second life quindi si può si può fare veramente diverse cosine adesso magari non sembra ma c'è anche sorpresa questa minaccia tra eterna minaccia e questo quando sta praticamente cantando dunque supponiamo di essere arrivati a un'immagine cioè una cosa che ci piace no e vogliamo salvarla tra l'altro ecco qua skeleton dovete scegliere lo scheletro e su questo di solito ecco vi ho fatto alcune prove no senza scheletro vuol dire che non è molto animabile abbiamo visto che per animare qualche cosa abbiamo bisogno di metterci le ossa dentro come vedete le ossa sono fatte proprio come vi avevo insegnato l'altra volta qui c'è un questo si chiama CMUMB che sarebbe Graphics Lab Motion Capture Database qui c'è mocap cscmuenu che tra l'altro è un sito che credo che abbia anche delle animazioni e queste animazioni sono fatte su queste ossa ecco una cosa che dovete sapere è che ogni animazione è fatta supponendo di avere determinate ossa nel corpo quindi se nel corpo le ossa non sono quelle per cui è stata studiata l'animazione o sono messe diverse l'animazione produce o non fa niente oppure fa fare delle cose oscene nel senso di bruttissime alla persona tipo che il braccio scappa si gira si torce eccetera il default vedete che c'ha 163 ossa la differenza fra queste cose qua è che tipicamente sono tante perché ci sono le ossa delle mani dunque per animare con Mixamo in realtà io le ho provate credo tutte e tre adesso non so se Mixamo le ricostruisca perché si dice che fa un automatic rigging quindi può anche essere che lui se le ricostruisca io le ho provate con credo con CMU sicuramente e poi ho visto in alcune parti che usiamo default no toes quindi default senza senza i 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 probabilmente come dice Maria Luisa anche se fate non quindi senza scheletro potrebbe faccia perché gli aggiunge lui comunque uno scheletro e poi c'è la versione per game engine comunque mettiamo per dire proviamo a fissarci su CMUNB e poi abbiamo il nostro oggetto ora prima di uscire da MakeHuman dobbiamo esportare questo personaggio e quindi questa è la parte più importante l'export qua su questo programma viene fatto in un modo un po' strano nel senso che c'è la freccia verso l'alto per animare in Blender una volta che tu hai il personaggio con le ossa ti ritrovi in Blender e poi fai le tecniche che abbiamo alcune delle tecniche che abbiamo che abbiamo visto nelle settimane scorse che vuol dire che devi prendere il personaggio e poi muovere lungo i giunti in modo da fargli assumere le opzioni cioè l'animazione che vi interessa comunque files export dice ok o se no anche appunto questo qua che è più o meno la stessa cosa quindi con l'export si può esportare nei vari formati i vari formati sono con l'ANA filmbox e qua che ho fatto mente locale che filmbox era fbx poi c'è questo make human exchange mhx2 ecco l'mhx2 è un formato che può essere letto direttamente da blender cioè c'è un plugin su blender che permette di leggere direttamente il make human non so se quindi cioè in teoria è un po' più immediato dicono di fare l'export con l'ADA però io ho fatto le prove con l'ADA e con fbx e ha funzionato discretamente quindi direi che va bene questo stereo litografi stl invece è il formato per le stampanti 3d ok le altre opzioni non sono riuscite a farle funzionare molto quindi non vi posso dire niente ma la bvh sarebbe quello che che potrebbe interessare per per poterci fare le animazioni nostre solo che nel momento in cui clicco su bvh non mi fa più scegliere il formato quindi ho qualche esitazione a capire che cosa esporti non ho fatto delle prove se volete provare voi io suggerirei questi tre formati quindi o con l'ADA o filmbox tipicamente filmbox è considerato uno dei più interessanti solo una cosa quando si esporta il in questo formato filmbox si dice Maria Luisa che quando si effettivamente quando scaricate makehuman vi dà anche il plugin da montare su blender e lo dice sia su mac che su pc solo una cosa quando scaricate tipo in filmbox quindi se noi andiamo in filmbox quindi scarichiamo su gblender e qui scarichiamo questa che sarebbe video mh se non mi ricordo male in realtà quello che succede adesso andiamo a vedere quindi andiamo sotto ecco vedete che ha fatto l'export andiamo in andiamo sotto gblender dove l'abbiamo scaricato e qui ultima modifica abbiamo video mh x fbx se non mi ricordo male dovrebbe aver costruito anche un cartella textures e queste textures sono molto importanti infatti all'inizio non me ne ero accorto forse anche voi non me ne siete accorti dentro texture ci sono sostanzialmente tutte le texture quindi per gli occhi l'abito che si è stato fatto le scarpe i capelli e ci sono anche il vedete le le normal map e queste normal map è interessante sapere che sono queste vi dico questo perché ecco dice Maria Luisa appunto di non scaricarle su una cartella singola per ogni personaggio in modo tale da capire bene quali sono le texture di uno e dell'altro una delle cose che ho notato quando poi si prende questo personaggio e lo si butta su Mixamo ad esempio il problema è che potrebbe perdere le texture nel senso che quando si va su Mixamo si vede tutto bianco in realtà non è un grave problema perché poi Mixamo come vedrete ci serve soltanto per avere l'animazione ma poi una volta che lo riscarichiamo diventa praticamente identico come la prima quindi con le stesse texture che era prima ok allora adesso abbiamo scaricato quindi se avessimo fatto come diceva Maria Luisa e Annie in pratica bisognava andare qua e dire fare una nuova cartella qui facciamo video mh make human e poi si poteva cercare di scaricare sotto video mh e qui facciamo make human character qui si vede anche più chiaramente il quindi sotto video mh vedete che ha creato textures e quindi siamo sicuri qui sotto blender qui abbiamo tutte ma la texture pelle credo che un po' si manca però lo fa colorata perché la texture pelle probabilmente dovrebbe mettere vediamo un po' sui materiali scegliendo qua quindi probabilmente scegliendo qua e dandogli una pelle una volta scelta così vediamo un attimo facciamo un piccolo esperimento andiamo make human character fbx ok e riproviamo a fare un export dopo avergli messo la pelle e vediamo se è vero che adesso c'è anche la pelle o meno sembra di no ah no eccolo qua è questa c'è c'è quindi in realtà se ti mancava la pelle probabilmente è perché non hai fatto la scelta della pelle ok quindi direi che funziona tra l'altro io ripeto sono la versione 1.2.0 alfa 3 ok proviamo andare a vedere quel pezzo che forse alcuni alcuni non hanno visto bene che è quello di come si fa ad animare questa cosa qua quindi basta andare su mixamo quindi andiamo su mixamo dovremmo opprima e proviamo a vedere se adesso riusciamo ad animare il questa cosa allora login sign in allora qui adesso abbiamo il personaggio di prima e noi facciamo upload character e l'upload character vuol dire che dobbiamo spostarci l'fbx ecco io ho provato a scaricarsi anche uno zip ma con scarsi risultati quindi prendiamo l'fbx direttamente l'fbx abbiamo visto che è questo e ce lo trasciniamo dentro qui viene fatto l'upload ecco vediamo ecco se fa questo vuol dire che è riconosciuto il nostro personaggio ma come vedete ha perso le texture o quantomeno le texture dei capelli ora a me è successo una volta che in realtà quando ho fatto questa cosa lui non capiva bene e allora mi ha chiesto di mettere una serie di marker in prossimità dei polsi dei due polsi dei piedi del del ventre qua e poi uno al mento anche mi ha chiesto di mettere ah dice che lo fa anche adesso no probabilmente lo fa quando ha dei dubbi quando non riesce a capire com'è la posizione del 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 nostro del nostro personaggio quindi allora noi a questo punto cosa facciamo prendiamo questo personaggio e gli facciamo suonare fare la samba come vedete ce lo fa ah probabilmente era lo scheletro sbagliato come vedete l'animazione l'abbiamo capito perché l'animazione è molto aderente perché è proprio fatta da una persona vera quindi qui si può cambiare le solite cose tra l'altro questo trim serve per far capire quando inizia e come finisce l'animazione e in alcune animazioni ho visto che è anche interessante il mirror nel senso che facendo il mirror adesso qui in questo caso è relativo però fa già lo fa dalla parte opposta come lo fa sopra una volta fatto questa il carattere fatto così facciamo il download e te lo risalviamo di nuovo in formato fbx facciamo il download lui ci impiega un po' per capire in che formato ha fatto samba dancing fbx che però ce l'ha messo chissà dove sotto downloads questo qui 2234 che è adesso ma noi lo prendiamo facciamo copia e ce lo rimettiamo in realtà qua sotto dove abbiamo messo il nostro personaggio precedente quindi rincolliamo qua abbiamo samba dancing vedete che c'è pur essendo tutti e due sono fbx ma questo qui a cui è stato applicato il il rigging è un po' più grosso questo vuol dire che ci ha aggiunto delle cose dentro ora per lavorare su questa cosa qua possiamo tentare di aprirlo in blender 2.8 quindi andiamo in vediamo un po' se ce l'ho blender .exe questo che è del 15 giugno lo lanciamo ok cancelliamo il nostro cubo e poi facciamo file import e proviamo a vedere se ce la facciamo adesso non garantisco nelle mie prove almeno una volta mi ha conservato le texture però non posso garantire che lo faccia anche adesso di blender no ag scusate blender ok andiamo video mh samba dancing import fbx adesso vediamo se sono stato abbastanza fortunato o meno ok ci pensa su allora vediamo un po' se allora non so se vedo eh sì sembra che le abbia prese vedete che le texture ci sono l'unico problema è che abbiamo intanto credo che abbiamo un paio di problemi qua nel senso che ce l'ha fatto un po' più grosso di quello che di quello che ci aspettavamo no quindi probabilmente bisogna rimpicciolirlo un po' ma a parte quello ci sono le luci per vederlo ecco questa qui è la luce quindi dovremmo probabilmente mettere la luce mettergliela un po' davanti e in alto magari g z e magari facciamo la luce un pochino più intensa se ce la facciamo quindi luce che dov'è che lo fa la luce forse qua ok color specular radice power 1000 watt e vedete se possiamo farlo un pochino più e così l'ho fatta a 10.000 watt poi vi rendete conto di quanto grande è questo personaggio che ha bisogno di luci così grosse shift d provo a muovere la luce in modo tale da illuminarlo e con shift d me lo sposto ma più che altro per vederlo un po' meglio quindi vedete che abbiamo il personaggio ce l'abbiamo e la cosa che sarebbe interessante vedere se ci abbiamo anche l'animazione quindi per vedere l'animazione bisognerà fare il play e vedete che il play ci ha fatto l'animazione è andato anche bene nel senso che quello che volevo farvi vedere ha anche funzionato al primo colpo Eva ti ha mai funzionato a te così? ecco e questo sostanzialmente è uno dei modi più efficaci per ottenere delle animazioni ora una volta che è animata così questa cosa qua può essere spostata su Sketchfab però per spostarla su Sketchfab e dobbiamo vederlo bisogna fare un altro mestiere quindi da qui è un casino quindi bisogna leggerla con Blender 279 quindi lo direi quindi se voi avete seguito il corso di Blender 280 avete finito così e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo se invece ah e sei riuscita a importarlo correttamente boh quindi prova ah sì però la cosa carina qua appunto c'è questo tipo di attività possono essere molto interessanti perché se lo fate in classe ad esempio i ragazzi possono fare dei personaggi simili a loro ad esempio o come vorrebbero essere ad esempio una cosa molto interessante quindi anni cosa mi suggerisci qua di fare per esportarlo faccio file export perché poi qui mi incasino sempre se lo esporto fbx forse era già fbx faccio già che tirarlo dentro da però mi stavo domandando non faccio prima metto direttamente quello che mi ha tirato fuori mixamo ah external data dici allora facciamo file external data automatically pack into blend questo ok però non sono sicuro che questo sia quello che fa comunque c'è questa roba qua poi facciamo file io sto seguendo le istruzioni di annie vediamo un po' se funziona export fbx poi qua cosa facciamo tutto qui devo mettere qualcosa animation no qui c'è tutto c'è qualcosa di particolare che ti sembra poi l'ho scelto così allora noi andiamo di nuovo su g due punti blender andiamo in nuovo sotto video mh e qui la salviamo come exported blender in batch dove è batch? qua sotto seguiamo il consiglio di questo qui mettiamo scene e questi sono i path auto forse questo serve anche per mettere il texto comunque mettiamo scene come ha detto lei exported blender non credo che sia la scenografia comunque sono deriti voodoo dal mio punto di vista comunque exported blender punto fbx facciamo export fbx ok e poi vediamo a questo punto che cosa ci ha generato quindi c'è exported punto fbx scene ha creato proprio una cartella e dentro però ci ha messo però mi sa che non ci ha messo le texture perché le texture qui sono sono comunque di texture qui abbiamo 13 megabyte mentre qui questo fbx non ce l'ha ovviamente queste 13 mbx ah le metti dopo le texture però guarda può anche darsi adesso facciamo un attimo di prova nel senso che provo voglio voglio provare un attimo a tirarlo dentro questo qui quello che abbiamo generato direttamente mixamo perché se se funziona quindi se noi andiamo adesso in sketchfab e poi facciamo un login login e poi proviamo a fare l'upload io scusate ma è solo per scaramanzia nel senso che provo a prendere video mh samba dancing che è quello che abbiamo fatto proprio da mixamo e poi vediamo un po' le varie opzioni quindi prendiamo samba dancing continue ok continue faccio molto velocemente ah sì mi dimenticavo che quanto quanto sketchfab è lento a fare queste cose qua proviamo a aspettarlo ok c'è un po' che cosa ha tirato dentro ok è bianco però quanto meno si muove vediamo un po' com'è che dici di mettere le texture vediamo un po' se riusciamo a mettere insieme quindi andiamo su 3d settings 3d settings dove c'è questa signora qua e poi andiamo nel materials giusto ok e poi da qua dov'è che vado ah qui ci sono tutti i materials quindi c'è female casual suite come faccio a tirare su la cosa ogni parte ah no me la seleziono facciamo così quindi clicco la parte female casual suite e come faccio a scaricare la base color ok texture import import texture e poi andiamo su questa qui come vi ho detto che si chiamava female casual suite questa no diffuse questa carichiamo la seconda la seconda ah ok e vi ho messo questo bravo poi prendiamo la pelle giusto questa facciamo base color texture choose import texture andiamo sulla pelle apri selezioniamo e abbiamo la pelle e poi vi ho detto i capelli questi ma che bella è carino è anche interessante capelli sono dove sono i capelli questi apri capelli via i capelli poi abbiamo gli occhi vediamo un po' se riusciamo a mettere gli occhi no vabbè ma ci arriviamo no dove sono mi sa che non riusciamo mira bene aspetta miriamo bene ok oculi ah low poly ecco perché non lo beccavo low poly manage textures import textures brown eye apri brown eye e abbiamo anche le cose ci mancano solo più delle cose quindi andiamo qua che sono shows manage textures import textures shows diffuse tac che sono qua e così abbiamo tutte le texturizzazioni ottimo quindi Gianfranco ha fatto beh però anche questa qui c'è comunque una sua diciamo cosa interessante e comunque abbiamo fatto visto anche su Sketchfab però come dicevo l'altra bene l'altra volta qualcuno di voi come appunto Gianfranco queste cose le ha fatte diverse volte quindi anche la normal map come si mette la normal map sul vabbè comunque adesso non ve la faccio vedere perché stiamo cominciando ad arrivare pericolosamente vicino alle 11 quindi però suppongo che per mettere cos'è roughness no dov'è sarebbe normal bump map quindi si seleziona questo metalness e dov'è non saprei come si fa attivarla ah si normal bravi siete troppo bravi troppo avanti andiamo a manage textures import textures female casual suite prendiamo ah abbiamo messo anche la normal map sul c'è che non si vede benissimissimo però comunque c'è bisogna vedere se è vero ah si si vede la normal map si vede un po' che è leggero ma insomma è più è più l'idea che non l'altro va bene sentite allora io direi che per certo senz'altro la puoi mettere o rimettere se l'hai già messo anche sul di nuovo sul su facebook e magari anche in classroom tutto è diritto di scrittura su classroom Maria Luisa se no poi dopo ti do vi do praticamente accesso a chi eventualmente ha del materiale e vuole condividerlo di questa settimana sì sì e ma bisogna sempre stare un po' dietro a a verificare queste cose allora niente io spero di non avervi annoiato troppo tenete conto che anche per me queste cose qua sono diciamo non proprio primordie perché qualcosina avevo fatto qualche anno fa però insomma non sono cose semplici la cosa che mi impressiona come vedete è che la qualità della resa è molto molto alta quindi cioè non è proprio come se fosse vero non è una foto ma rispetto a second life è decisamente a ottimi livelli allora io direi che con questo chiudo la registrazione se c'è ecco per l'animazione in OpenSeam io ci ho provato probabilmente c'è un workflow per farlo ma sicuramente passerà attraverso prodotti e pagamento e quindi intanto vedo se effettivamente si può fare dopo di che se si può fare al limite se vi se vi interessa si potrebbe o prendere questo prodotto che comunque non è che costi un'esagerazione un prodotto si chiama Avastar che fa queste cose oppure se volete riuscire a trovare un altro sistema non a pagamento ovviamente è meglio ancora e con questo direi che possiamo stoppare tutto buonanotte a tutti ciao